... Migliaia di posti di lavoro a rischio. In Italia, il comparto della TV locale rischia di sparire. Molte frequenze di trasmissione assegnate per 20 anni. Ora vengono tolte. Canoni per l'uso delle frequenze enormemente aumentati. Numeri sul telecomando ancora in discussione. Forti limitazioni alle attività trasmissive. Tutto ciò è inaccettabile. Le TV locali rischiano di spegnersi per sempre. Viene soppressa la libertà di informazione. Viene soppressa la libertà d'impresa. Viene soppressa la voce del territorio. Il governo deve decidere se vuole ancora le TV locali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.